Ciao amore mio, cosa è successo al tuo guancione ieri? Ti ricordi? Sì Cos'è accaduto amore mio? Sì, dalla bicicletta facevo una discisa alta però papà mi ha messo il miele nella guancia e è guarito perché il miele è una medicina Oh no, che bello amore Sai che ieri abbiamo messo veramente il miele perché non sapevamo cosa mettere, non avevamo niente lì dalla cosa e sta già benissimo, benino la guancia adesso la laviamo con l'acqua tiepida e mettiamo ancora del miele amore Vieni, vieni che la laviamo un po' Ok Ecco qua che la sta asciugando la fiorita l'abbiamo lavata l'acqua tiepida adesso andiamo a mettere un po' di miele amore mio Ecco qua che la nostra principessa che si è fatta male la trattiamo con il nostro super miele biologico grezzo Se la lasciano in pace le sorelline perché veramente Ecco, dammi la guancia principessa mia abbiamo messo ieri quando si è fatta male e stamattina si è svegliata che era già meglio adesso lo rimettiamo perché sappiamo che il miele ha proprietà antibatteriche Ecco qua, basta amore bello, basta, basta Mi fai male Faccio male anche se delicatamente amore Ok, bravo amore mio Lecca, lecca che questo lo puoi lecare non è una medicina è una medicina ma naturale bravo amore Ecco qua il terzo giorno della ferita di Vanessa che la stiamo guarendo esclusivamente con il nostro miele grezzo biologico e ha veramente migliorato moltissimo il visino bellissimo di Vanessa è proprio più sgonfio e meno meno è più cicatrizzato guarda siamo veramente rimasti sorpresi quanto il miele grezzo ha proprietà antibatteriche cicatrizzanti eccezionali e questo è il risultato che stiamo ottenendo con Vanessa Vanessa oggi il quarto giorno e stiamo usando solo il miele per la sua bruttissima ferita che ha preso facendo un voglio con la bici in discesa e sta andando molto molto bene la stiamo curando solo con il nostro miele grezzo biologico mettiamo adesso un po' di miele stamattina la messa da sola è stata bravissima e lo rimettiamo ancora adesso via oggi mettiamo un miele di ciliegio cristallizzato ecco qua la guancia ecco qua che rimane più a contatto e scende meno se no ecco abbiamo visto ovviamente un cambiamento favoloso solo con il miele praticamente le sue proprietà benefiche elencate dal medioevo sulla cicatizzazione e l'abbiamo confermata è fantastico eccoci qua che Vanessa il quarto giorno della sua mega ferita con solo il miele è guarito benissimo dire guardate come è rimasto pochissimo e la pele sembra rigenerata perfetta quindi siamo molto molto felici solo e solamente il nostro miele mamma mi fa male qui evviva il miele evviva le api ma fa silenzio vediamo un po' come va la ferita ma sai che è guarita benissimo amore mio bellissima e l'abbiamo curata solo con ti ricordo il miele bravissima il miele vedo che ha guarito perfettamente la pelle del viso della mia principessa evviva il miele evviva le api e l'abbiamo